Salve a tutti unicorni, sono Edy e vi avevo promesso dei video nuovi, differenti, di cinema, serie tv e robetta nerd. Ecco, questo è uno di quelli. Dalla mia tazza potete ben capire di cosa parleremo oggi. Doctor Who Tag! Ho deciso di iniziare questa serie di video tag dedicate alle serie tv e ai film con la mia serie preferita, Doctor Who. Iniziamo subito! Qual è il tuo dottore preferito? C'è da chiederlo? No, dico! C'è da chiederlo? Episodio preferito. In realtà non ho un vero e proprio episodio preferito perché ne ho tantissimi che potrei citare, però probabilmente quello che potrei definire il preferito fra i preferiti potrebbe essere la fine del viaggio. in cui praticamente ci sono tutti. C'è il dottore, il doppio del dottore, c'è Donna, c'è Marta, c'è Jack, ci sono i Dalek. Tutti e c'è anche Rose. Sì ragazzi, anche Rose. Devo ammetterlo, io non adoro particolarmente il personaggio di Rose, però in questo episodio, visto che io fangerlavo in maniera assurda per la love story tra il dottore e Rose, beh, la love story diciamo che in questo episodio ha una reale fine con effetto sorpresa e che non vi sto qui a spoilerare, se no veramente pare brutto e mi insultate. Compagna favorita? Allora, diciamo che sono i Pond, però in particolare Amy Pond, la adoro, anche perché lei praticamente cresce insieme al dottore, lo aspetta. Sono particolarmente affezionata ad Amy. Primo episodio che hai visto? Il primo episodio che ho visto risale, mi sembra, al 2005 ed è la prima stagione della nuova serie del Dottor Who ed è il bambino vuoto. Are you my mommy? Pre o post rigenerazione preferita? Ecco, qui io sono indecisissima, perché la rigenerazione, per esempio, di Tennant in Smith io la adoro, perché c'è l'addio di Tennant a tutti i suoi amici e la frase che Tennant dice Non vuole andare via, lui non vuole trasformarsi, però si trasforma in Smith e Smith è fantastico, nel senso la trasformazione di Smith avviene poi praticamente con la conoscenza di Amy E anche questo è adorabile, cioè l'incontro di Amy con Smith è splendido. L'altra rigenerazione che adoro è appunto quella da Smith a Capaldi, c'è Smith che appunto dà l'addio a Amy e la telefonata che fa Clara nel momento in cui Clara conosce Capaldi, anche quello è fantastico. L'interno favorito del TARDIS Qui esco definitivamente da infavoritismi per Tennant e Smith e dico l'interno del TARDIS di Capaldi Mostro o cattivo preferito? Cari unicorni, spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto e adorate anche voi il Dottor Who e volete rispondere alle domande di questo tag potete scrivere qui sotto lasciando i commenti con le risposte. Se volete aggiungervi al gruppo di unicorni su Facebook vi lascio il link qui nell'info box insieme a tutti gli altri link dei social. Per seguirmi, per contattarci, per parlare, per scambiarci caramelle, cioccolatini, soprattutto cioccolatini. Vi ricordo inoltre che se volete giocare con me a Darkstone questo è il mio battle tag. E alla prossima! Io vado a finirmi il mio tè. Ciao! Ciao!